Scongiurati i rincari dei pedaggi autostradali che già da ieri sarebbero scattati su A24-A25, proseguono le trattative al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, dove il 7 gennaio dovrebbe tenersi un prossimo incontro. Al centro della trattativa è il nuovo piano economico-finanziario scaduto nel 2013, che dovrebbe regolare i rapporti fra il MIT e la concessionaria strada dei parchi, senza il quale non è possibile eseguire gli interventi per l'adeguamento sismico sulle importanti arterie viarie che collegano l'Abruzzo con il Lazio. Per quanto concerne i rincari dei pedaggi, la società strada dei parchi aveva deciso autonomamente la sospensione fino al 28 febbraio. Poi il Ministero è intervenuto e ha prolungato i termini fino a giugno, anche se all'inizio della trattativa si parlava di un periodo di un anno. Il MIT, in una nota pubblicata sulla home page del proprio sito internet, afferma di aver così scongiurato aumenti di oltre il 18% sui pedaggi autostradali e di non aver raggiunto un accordo a fronte della reiterazione di pretese del gestore. Il concessionario, al contrario, sostiene che i mancati aumenti delle tariffe rappresentano una decisione che strada dei parchi ha responsabilmente assunto in fiduciosa attesa che il governo trovi un'adeguata soluzione normativa, pur avendo dovuto prendere atto con rammarico delle ingiustificate pretese di ANAS che per concedere il posticipo delle rate del corrispettivo dovute quale prezzo per gli anni 2017-2018 esige un tasso di interesse del 6% annuo al posto del tasso legale stabilito o pelegis. La società ritiene che sia necessario avviare già dal prossimo 7 gennaio un tavolo con il Ministero ed ANAS che consenta di risolvere il problema in termini ragionevoli ed è fiduciosa che il Ministero la possa mettere al più presto nella possibilità di sottoscrivere il nuovo piano economico e finanziario in modo da affrontare, risolvere in via definitiva la questione degli adeguamenti tariffari che auspica siano oltremodo contenuti.